Allora, il giorno di oggi è un giorno molto importante. Il 21 ottobre è successo di tutto. Ci sono due pennelli. Visto che i vostri amici hanno detto che si può usare delle sfumature. Il 21 ottobre è successo di tutti i nostri amici. Adesso, adesso che ho fumo. 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 E se figlio. E' bello, è bello. E' bello. E' bello. Ok, il vestito. E tu viesce che c'è il sole Pagano un applauso, un applauso E tu viesce che c'è il sole Fate pure quei colori che volete Fate i tuoi colori preferiti della sposa Perché il sì che voi dite oggi è il mio fruttore Quindi davanti e via voi possiate essere oggi Nobile d'arte più bella, perché il Signore è bello Adessia, ricevi questo anello Il segno del mio amore e della mia fedeltà Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Il prondo allo subito dello sposo Ma l'altra mano? Andrea, ricevi questo anello Il segno del mio amore e della mia fedeltà Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Allora applausi Mora le Cos'è il mio figlio, è il mio figlio.